E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E sono Stef, che si giochiamo a Minecraft E oggi siamo qui con una nuovissima custom map Che si chiama De Colossus Il cui obiettivo principale sarà quello di aiutare questo povero villaggio Ad affrontare un gigante Da qui il nome De Colossus, Stef, ovviamente Esattamente, però per arrivare al gigante Mi sa che dovremo affrontare tante cose diverse Tante peripezie In ogni caso, facciamo partire la mappa E vediamo un pochettino che cosa succede Dove siamo? Siamo in una stanza buia Allora, cose strane sono successe in questa città? Ok Tutto il cibo ha cominciato a sparire lentamente Ok? Beh, allora è arrivato a fare nel villaggio Allora, le persone hanno pensato che fossero gli scarafaggi O i maggots Che non so come si traduce Però va bene Tutti se ne sono andati E noi siamo gli unici pazzi Che sono rimasti qui Quindi penso che dovremmo cercare di capire cosa sta succedendo Stai mangiando il cibo di tutto il villaggio Quindi è ovvio che sei rimasto Altrimenti non potresti continuare a mangiare Non l'ho mangiato io, scusami Non l'ho mangiato io Sì, certo Appena vedi una torta Allora, il nostro obiettivo è quello di iniziare a esplorare la città Quindi suppongo per capire cosa sta succedendo Ok, va bene Allora, vediamo un pochettino Giriamoci in tondo Vieni qua Io vorrei vedere questa casetta Infatti è molto particolare Quindi secondo me potremmo trovare qualcosa Buongiorno Salve! Fede! Si stanno rubando le mie torte Steph Quelle erano mie Ma Allora Io mi voglio un attimo soffermare su questa cosa Ti ho visto mangiare dolci e sei veloce Ma veloce come quella roba lì Non ho mai visto nessuno E se hai preso sei torte Le ha mangiate in mezzo secondo Cavolo, mi batte Quindi vedi che c'è già qualcosa Vabbè, c'è una roba viola che mangia torte Vieni qua Vieni qua Vieni qua Che ho visto qualcosa di strano Non una roba viola Io volevo dire Perché non sono come te Steph Che c'è un'entità magica Una roba viola Una roba viola Vieni Sempre via la resta Questo che cos'è? Una sorta di prigione Scusami Non lo so Aspetta, di nuovo, di nuovo Guarda Ma quello era un bambino? No Mangia torte bambini sto cosa Non penso sia un bambino Forse era un ognomo Eh sì Avrebbe senso che fosse un ognomo L'ho visto camminare Sempre Sempre qualcosa da mangiare Non è ironico tutto questo Vieni qua Allora Io voglio vedere questa casa No, aspetta Dimmi Vediamo prima questa Vieni, vieni, dai Uh, aspetta, aspetta, aspetta Ci sono delle ceste Stef, è successa una cosa strana Se tu non vieni Non le vedi queste cose Cos'è successo? Fari, dimmi, dimmi un po' C'era di nuovo quella cosa Che si è mangiato un ognomo Perché io mi rifiuto di dire Che siano bambini Quindi si è rimangiata anche un ognomo Quindi mangia torte e gnomi Esatto La sua dieta è come salato Il gnomo è come dolce la torta Ma non è detto che li stia mangiando Secondo me è una sorta di teletrasporto Capito? Capito? Quindi ti manda in un'altra dimensione E secondo me sì Perché è sempre importante Quindi possiamo trovare la dimensione delle torte Teoricamente Prendila seriamente Però dai Però io adesso ti mando fuori E lo gioco da sola Su Va bene Io sto cercando di entrare nel personaggio E di aiutare questi poveri villaggieri Ok Non fai altro che dire festeggiare Allora aspetta, aspetta, aspetta Fere Divento il detective Ok No dai Seguimi Qui cos'è successo? No 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 Fere Sto seguendo le norme Guarda Vabbè Steph rimane solo quella casa da vedere Fere non è vero Ci sono tantissime altre possibilità Poi le orme non le norme Non è l'unica Le norme non si Guarda Fere Come pensavo L'ho trovato Però che stavolta non scompare Fere E vorrà dire che ci vuole inghiottire Steph Aspetta Ok Sei andata senza di me E vabbè Voleva andare Questo penso che sia la presentazione della mappa Ok Quindi abbiamo fatto partire adesso Ufficialmente la mappa Eh esatto Vedi qui è quando si stava mangiando le torte Che ben ricordi Sì Gli hanno fatto proprio la fotografia Sì Vedete le torte insieme in contemporanea Fenomenale Bravissima Bravissima Cosa viola Qualunque sia il tuo nome Che ancora non abbiamo Però fateci iniziare Almeno io ero già entrato nella modalità investigativa Volevo scoprire un pochettino De Colossus Il portale C'ha teletrasportati qui Ok Quindi era un portale Siamo finiti Non si sa bene Dove E che cos'è questo posto Steph Dove siamo Allora Dice che praticamente possiamo interagire con gli oggetti Che hanno un'aurea viola Perché non so bene come si traduca overing Però mi sembra Quindi allora Se tu vedi del viola interagisci Ci sta Qua Guarda Non penso che puoi andare No No sei bloccato Ma l'ho trovato io Vieni Steph Guarda Dove C'è qualcosa di strano qui Qua Nel fuoco Premi destro Right click Ok Ok Che sta succedendo Fuochi d'artificio Fere Vedi Più o meno No no Sì 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 Questi sono fuochi d'artificio Aspetta aspetta Sta segnando una direzione Guarda Dove Si è aperta la caverna Ma tu non guardi mai E ti perdi le cose più belle Era un passaggio segreto Sì si è aperto il portale Aspetta Eh vedi Vedi che comunque sono gnomi Tu quelli chiamavi bambini Quelli sono tre gnomi Andiamo andiamo Veloce Veloce No piano piano Non li voglio spaventare Steph Non puoi correre così Ma che spaventare Gli gnomi non hanno paura Eh sì che hanno paura secondo me Più che altro cosa stanno guardando Eh non lo so Ah no che stanno guardando verso noi Però dietro c'è un pianeta strano Cioè non lo so Ciao gnometti Salve Gnomi che vivono in una caverna segreta E usano dei portali Ha senso vero Steph Assolutamente sì Allora più umani Però subito hanno detto Umani abbiamo bisogno del vostro aiuto E noi hanno detto Di che cosa avete bisogno Poverini gnometti Allora abbiamo bisogno del vostro aiuto Per liberarci dal nostro master Ronald Ronald Eh un master Infatti me lo stavo domandando anch'io Che cos'è un master Sì ci aiuterai Eh però spiegaci meglio Cos'è un master Questi sono felici e saltano Ok perfetto Almeno li abbiamo resi felici Steph E per te Sono carini dai Vieni qua Hanno l'hashtag nella maglietta Gli hai visti Gliela diamo l'hashtag noi Non rubargli le torte Guarda l'hashtag Hashtag gnometti pazzi Ok perfetto Allora ci ho detto Che praticamente ci spiegheranno dopo Tutto quello che dobbiamo fare Sempre dopo le cose Ha detto che adesso comunque Ok Ci dobbiamo limitare A esplorare tutto questo posto Ok In ogni caso Il nostro obiettivo è diventato Quello di trovare il master Molto semplicemente Ok Io vorrei capire Che cos'è questo pianeta qua Secondo me è la loro tv Credo sia semplicemente un quadro Una tv Non ho idea Guarda che no Steph Ti prego lo compriamo E lo mettiamo nella nuova casa È troppo bellino In una mensola Sì in una mensola Cioè guarda come si è messo Dimmi che non ci starebbe troppo bene In una mensola Mi piace un sacco Ti piace anche a me Però guarda Fede Qua c'è del viola Ok Ho fatto red click Allora questa qui dovrebbe essere Una macchina che ci permette di viaggiare Nelle dimensioni Nelle dimensioni Ok Però dice che non proprio Perché noi l'abbiamo dedotto Ok E dice che è un semplice teletrasporto Se può essere semplice Il teletrasporto Ma qui dice se io faccio così Vengo teletrasportato Non lo so No su di noi non funziona Forse è un teletrasporto Solo per gnometti Penso che non lo sapevo neanche usare Beh si è abbastanza complicato In ogni caso In alto vedo un'altra cosa viola Esatto Ma ne vedo anche una qua in basso Facciamone una alla volta Ok vai Direi di andare in questa qui E vediamo Che c'è qui dentro Oh hey Uuuu Allora 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 Questo qua è Ronald L'abbiamo trovato Ha detto Oh un umano Non ne vedo uno da tanto tempo Ok Ok E perché Anche a me infatti Lui sembra un essere umano normale Infatti noi gli chiediamo Ma anche tu non sei un umano Scusa No sono un super umano Un super eroe Super umano Allora Super human Scusami Cioè perché lui è un super umano E noi siamo umani normali Allora secondo me Steph Non è un super umano Ma è semplicemente Quello che si è mangiato Tutte le torte E quindi è diventato super Per quello Esatto E ha sfruttato la magia Per mangiare le torte Perché vedi che Continuava a masticare Anche mentre si parlava Sì sì Lo vedevo capiva Costantemente la bocca Anche mentre parlava con noi Che pure è maleducazione L'ho notata questa cosa Però andiamo avanti Il nostro nuovo obiettivo È quello di parlare con Chetz Che secondo me È questo neumetto C'è un bottone rosso Aspetta no Aspetta 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 Steph Non premere i bottoni Andiamo prima a vedere Che cos'è questa cosa Non me l'ha fatto fare Ma ci ho provato Cos'è? Ok Che cos'è questa cosa? Cos'è? Vediamo Vediamo Una healing machine Quindi serve A curare Ok Cura qualsiasi creatura vivente Quindi praticamente Ok Ok Ci ha detto che quando troviamo Un gnomo selvatico Tra virgolette Quindi un gnomeetto libero Possiamo portarlo qui per curarlo Comunque lui è Gak Non è Chetz Quindi Allora non è Chetz Dobbiamo ancora trovare Chetz Ah Chetz è lì È quello che volevi mettere Nel nuovo studio Nella mensola Eh vabbè perché è carino Si è messo là Eh lui soprattutto è furbo Lui secondo me Sa al piano Lo sa tutto Vediamo Ok Ok Penso che tu abbia incontrato Ronald Sì l'abbiamo incontrato Era quello che si stava mangiando Tutte le torte Sì l'abbiamo incontrato Non era molto simpatico Eh però l'abbiamo incontrato Allora ci dice che Quindi lo devo aiutare A liberarli da lui Ma scusa che sta facendo di male Io non l'ho ancora capito Ok Vedi Ok Quindi dobbiamo Rapire Perché più o meno è quello Gli gnomi selvaggi E curarli Gli abbiamo chiesto Perché dobbiamo appunto Salvare questi gnomi dispersi E lui dice che Più gnomi noi salviamo Più Ronald sarà vulnerabile Eh Probabilmente Questa cosa è molto interessante Allora non sono proprio selvaggi Magari sono gnomi Che Ronald Si è preso per secco la magia Capito Ok Ferre Ci ha dato qualcosa Ci ha dato delle cuffie Col microfono Per poter comunicare Con gli gnomi Aspetta Steph Prendiamoci due minuti Prendiamoci due minuti Per guardarci l'un l'altro Siamo troppo belli Aspetta che metto la testa bene Anche io guardaci Siamo stra belli Possiamo andare a commentare Una partita di calcio adesso Sì assolutamente In ogni caso Ci ha detto di andare Alla teleporting machine Quindi direi che è il momento Di essere teletrasportati Arriva Buona fortuna Grazie Grazie mille Ci servirà tantissimo Quindi praticamente Consolini Abbiamo questo Ronald Che è un super umano Che in qualche modo Sta rapendo questi gnometti E per qualche oscuro motivo Noi più gnometti salviamo Più Ronald diventa vulnerabile E scarso E lo possiamo sconfiggere Ok Steph aiutami Perché c'è un gnomo strano qui Oddio ma No vero No 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 Non voglio fare parkour Steph Doveva essere una mappa tranquilla questa Tu mi hai detto Andiamo a sconfiggere un gigante Ho detto Finché dobbiamo dare bastonate Va bene Ma finché poi dobbiamo fare parkour No Sono già caduto Ecco qua Anche a me nessuno mi ha avvisato Che c'era del parkour da fare Non faccio un parkour su minecraft Dal 2001 Fere Quando neanche era uscito il gioco Io Steph penso di non averne mai fatto uno Ti dico la verità Vai Infatti Ciao Steph Non lo finirò mai Lo so Fere E quello è lì che ci guarda Smettila di guardarci E vieni qua da noi Ti vogliamo aiutare Dobbiamo curare Allora io continuo a rafficatune Mentre cerca di convincerlo A venire lui da noi Perché altrimenti Fere ce la sto facendo Piano piano Vai Steph Io non lo voglio fare Quindi fallo tu Ti prego No Ma l'hai visto dove dovevo andare E poi qualcosa sta continuando a scappare via Guardalo Steph Però guardami eh Guardami sono diventato bravo Allora E beh perché Ti voglio bene Steph Sei un pochino in mezzo alle scatole Fere Vai buttati vai Ti voglio Brava Guardami eh Fere guardami bene Upp Upp Steph è troppo difficile Sono bravo solo quando non parlo Esatto Sì esatto Quando parlo inizia a ricadere Ciao Fere Bravissimo Steph Io ti aspetto qui vai Sì ma credo di essere a metà Come a metà Io odio il parkour Non dirmelo Steph Vieni qui Gnometto Tu lo fai sembrare così semplice Ma non lo è Vabbè almeno rispondo qui Allora non ho più paura di morire Vado all'infinito Non ho più paura Però non è che devi morire in continuazione Steph Dai Ormai ne hai fatto uno Fai l'altro Su Non riesco Ok Bravo Bravo Vai Steph Ok Qua di precisione Oh bravo dai Ok Tu meriti un bell'applauso per la volta Ok Sì vabbè ma quello è da pazzi Sono vicino È da pazzi Ma chi l'ha inventata sta cosa Vado Sto impazzendo Ok Bravo Ok fin qui ho imparato Poi Ce l'ho messo il piedino Mi ha scivolato Il mio piede è scivolato Porca miseria Adesso sbaglio anche quello Ci manca solo che sbaglio pure lì adesso Ok Ok Bravissimo Ok Bravissimo Allora secondo me da qui Dici Ui Però c'eri eh C'eri C'eri Dovesti tenere sempre premuto Capito Questo sarà bellissimo Bravo Steph È finito L'hai preso Sì Oh mio Dio E ora Allora Ok Dice che ci riportano indietro Fere Grazie Io non ne ho dovuto fare È stato bello Steph Come far Bellissimo Mi sono divertito un sacco Abbiamo salvato quindi un mio mettino Ha detto che dobbiamo tornare a parlare con Gak Allora Good job Human Grazie Grazie Soprattutto Fere E il mio subject A Quindi stanno curando il soggetto A Guardalo Steph È arrabbiatissimo Sono io ad essere arrabbiato Disgraziato Puoi premere il bottone Steph Sì Vai curalo Curalo Ok Che succede Ma poverino Steph Non mi sembra proprio una cura questa eh Cioè Sta per esplodere vero No Non vorrei dire ma Mi fa un effetto strano Aspetta aspetta No magari torna Eccolo È tornato con l'hashtag Adesso con le mie amiche Adesso ha l'hashtag quindi sta bene Ciao Come si chiamerà C'era bisogno di spaccare il vetro scusi Grazie per avermi salvato Si chiama Nack Sì grazie a te per quel bellissimo parkour Ok Mettiti lì e stai fermo per sempre Dobbiamo riparlare con Chetz Che sta di sotto Con l'ognometto della mia mensola Andiamo Quindi andiamo dall'ognometto della tua mensola Buongiorno Chetz Abbiamo qualcun altro da salvare Spero di no E invece sì Ecco il secondo Non c'è il parkour vero? No vero? Dicelo subito almeno Perché se no ce ne andiamo Guardami negli occhi se c'è Guardami negli occhi Bravissimi Fede mi ha dato un pugno No aiuto anche a me Fede no che ha rotto i più pugni No Io ce la faccio più Non ce la faccio più È follia pura Ragazzi Scusi se siete lasciateci un bel like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli da iscrivervi Farò perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Alla prossima